L'annuncio di PMI Pure System penso che sia un annuncio molto importante per i clienti e per i partner che mi fa tornare all'annuncio dell'S400 fatta un paio di decenni fa. I Pure System ripetono quel concetto perché anche i Pure System hanno nel loro punto di forza l'integrazione di tutte queste caratteristiche, di queste componenti, dei sistemi con un vantaggio rispetto all'S400. I Pure System sono dei sistemi aperti che quindi possono dare una risposta a quello che oggi è la realtà di mercato, la realtà dei clienti di operare con piattaforme diverse. Io credo che il Pure System sia un'eccellente risposta a questa tipologia di domanda. Ma noi pensiamo di proporre questo sistema alle aziende che soffrono il problema della complessità, aziende che hanno installato più server, che devono gestire più ambienti, che affrontano la problematica dei costi di gestione di situazioni così critiche, che hanno anche l'urgenza di consegnare ai loro utenti delle applicazioni in tempi brevi e che quindi si aspettano dei prodotti più evoluti che risolvano queste loro esigenze. I vantaggi vincenti della nuova piattaforma sono quelli che dicevo anche all'inizio, stanno soprattutto nell'integrazione, nella velocità di setup, cioè di messa a disposizione di una nuova infrastruttura e di costi di gestione più contenuti, che è esattamente quello che i clienti ci chiedono. Quindi i vantaggi sono quelli di interpretare le loro esigenze e le loro richieste.